In questo numero, emergenza coronavirus, la Toscana tiene alta la guardia. Primi due casi sospetti positivi, attivata la quarantena per i contatti, nessun provvedimento di restrizione. Lavoratori svantaggiati e disabili, firmata la Convenzione, fra Regione, Arti, Sindacati e Associazioni per ampliare le possibilità di collocamento mirato. Terre di Siena, presente il portale online, è il primo dei 28 ambiti turistici toscani a proporre un sito dedicato. Qualità dell'aria, accordo fra Regione Toscana e Ministero dell'Ambiente, 5 milioni di euro le risorse messe in campo contro l'inquinamento. In Toscana ha abolito il super ticket sugli esami di laboratorio dal prossimo 2 marzo, accordo Regione e Sindacati per migliorare i servizi. L'emergenza coronavirus approda in Toscana con i primi due casi sospetti. Un uomo di 49 anni residente a Pescia, tornato giovedì scorso da Codogno, uno dei due focolai dell'epidemia in Italia, e un imprenditore fiorentino di 63 anni, tornato da Singapore a gennaio. Per entrambi le ASL hanno subito attivato la profilassia epidemiologica per individuare tutte le persone che sono entrate in contatto con loro e metterle sotto osservazione. In attesa che l'Istituto Superiore di Sanità vali di due casi di contagio, il Presidente della Regione Enrico Rossi e di Sindaci Toscani si sono confrontati in una lunga riunione al termine della quale è stato deciso di procedere con adeguatezza, proporzione e progressione. Il provvedimento più importante è quello che chiede ai medici di famiglia e ai pediatri di famiglia di riendersi disponibile con il telefono dalle 8 alle 20, anche sabato e domenica, poi discuteremo le modalità contrattuali. Avverto che non rispettare un'ordinanza è a rischio di convenzione in una situazione d'emergenza come questa. Saranno quindi medici di famiglia a stabilire in questi casi se si trovano di fronte a un caso sospetto. I cittadini che quando manifestano problemi respiratori, sintomi di influenza, raffreddori o altro, possono chiamare senza recarsi all'ambulatorio medico il medico di famiglia e il medico di famiglia di lì può dare consigli e ricostruire anche sulla base di una scheda formulata dal livello nazionale il caso come caso sospetto. Se è sospetto chiama 118, chiama il responsabile dell'igiene del territorio, noi interveniamo sui casi sospetti e solo sui casi sospetti, non su altri. Si possono e si devono fare gli interventi di test e qualora il test risultasse positivo la persona viene presa e isolata da tutti gli altri percorsi, portata nell'ospedale e ricoverata. Al momento quindi non sono stati disposti provvedimenti o limitazioni speciali in Toscana per l'emergenza coronavirus né per quanto riguarda le scuole che restano aperte né per lo svolgimento di attività e manifestazioni. I provvedimenti devono essere razionali. Io penso che non si può la paura diffusa alimentarla con provvedimenti che a loro volta inducono la paura. Per dare maggiori opportunità di lavoro alle persone svantaggiate e disabili, la Regione Toscana ha sottoscritto una convenzione con l'Agenzia regionale per l'impiego, arti, sindacati e le associazioni delle cooperative. La convenzione integra e ampia gli strumenti già esistenti, facilitando le imprese negli obblighi legislativi di assunzione e convolgendo nel processo di inserimento le cooperative sociali. Credo che davvero sia un passo in avanti per un inserimento che va poi verso il fine ultimo dell'autonomia delle persone con disabilità. Attraverso questo accordo le imprese che hanno l'obbligo di assunzione rispetto ai soggetti disabili, quindi ex legge 68, potranno nei casi di disabilità più grave, quindi nei casi più problematici, potranno commissionare un servizio alla cooperativa e quindi il disabile potrà prestare la sua opera presso la cooperativa. La Toscana con questo strumento è in prima linea per l'inclusione lavorativa. Terre di Siena è il primo dei 28 ambiti della Toscana a mettere online il proprio portale per offrire informazioni sull'accoglienza turistica. Il sito è stato realizzato per essere integrato dal punto di vista grafico ed editoriale con il sistema regionale. I 28 ambiti, un elemento di novità, è un metodo nuovo di raccontare per aggregazione e con maggiore spessore le tante storie della Toscana. Il racconto passa attraverso il web, attraverso la comunicazione che la nostra agenzia può mettere a disposizione. I contenuti del portale sono in parte realizzati da una redazione web interna all'ambito stesso e in parte includono i contenuti già disponibili nei siti turistici territoriali già esistenti e nelle banche dati turistiche della Toscana. Un sito di destinazione che copre le informazioni per l'ultimo miglio è sicuramente molto utile e completa bene la richiesta da parte dei turisti di ricevere quante più informazioni possibili che le aiutino ad articolare la proposta regionale. Siena è all'avanguardia su questo tema, con loro stiamo lavorando già specificamente su alcuni prodotti come quello del bike ed altri. Abbiamo presentato la settimana scorsa il tema del wedding. Il sito di destinazione ha esattamente questa funzione. Il presidente della regione Enrico Rossi e il ministro dell'Ambiente Sergio Costa hanno sottoscritto un accordo per mettere in campo una serie di interventi per migliorare la qualità dell'area in Toscana partendo dalle due aree più a rischio, la Piana Lucchese e quella fra Firenze, Prato e Pistoia. Le risorse messe in campo sono 5 milioni, 4 del ministero e 1 della regione. A questo intervento noi mettiamo, come dicevo, altri 5 milioni di fondi europei che andranno a bando per le piantumazioni e quindi già sono 10 milioni. Più ci stiamo predisponendo per attingere ad altre partite, ad altri fondi nazionali che sono stati messi con la finanziaria sempre finalizzati al miglioramento della qualità dell'area. Dopo aver firmato il protocollo con il ministro, l'accordo di programma con il ministro, parlerò subito con il presidente della provincia di Lucca e poi con il comune di Firenze, con il sindaco per concertare gli interventi. Sono molto contento di firmare questo accordo perché noi non dimentichiamo alcuni argomenti strutturali di base. Noi siamo in infrazione europea per la scarsa qualità dell'area in alcune zone d'Italia. Ovviamente non parliamo solamente di alcune zone toscane, ma parliamo anche di zone a nord come zone a sud. Quindi l'Italia ha questo problema. Però questo è un problema che da soli non si risolve se non si fa squadra. Ecco, oggi abbiamo fatto squadra qui in Toscana. Gli interventi in programma mirano a ridurre sia il biossido di azoto, che interessa soprattutto l'area fiorentina, che il PM10. Per quanto riguarda il biossido di azoto, si interverrà sulla viabilità limitando il traffico. Per ridurre il PM10, l'accordo prevede contributi alle famiglie per sostituire gli impianti di riscaldamento a biomassa con impianti di ricondizionamento e alle piccole aziende agricole e titolari di coltivazione arboree per l'acquisto di biotrituratori. La Regione Toscana ha siglato un protocollo d'intesa con CGL, CISL e Will per realizzare una serie di interventi strategici sulla sanità toscana, come un ulteriore abbattimento delle liste d'attesa, l'incremento delle cure intermedie, nuove case della salute, lo sblocco di nuovi fondi annunciati dal presidente Enrico Rossi. E poi c'è un grande capitolo relativo agli investimenti che possono partire. Io ho fatto un conto, noi siamo già in grado, oltre che su Pisa, il grande intervento da 500 milioni di sbloccare altri finanziamenti per qualcosa come 500 milioni sempre in edilizia sanitaria che fanno parte di quel programma che supera ormai il miliardo e mezzo che abbiamo messo in campo. L'intesa prevede anche di eliminare dal 2 marzo il super ticket sugli esami di laboratorio. Siamo a sottoscrivere un accordo per eliminare anche il super ticket sugli esami di laboratorio, in attesa naturalmente dell'eliminazione da settembre totale del super ticket come ha promesso il ministro. Grazie. 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 Grazie.